Fiumi di parole, tanti incontri, tavoli, manifestazioni di protesta, però alla fine purtroppo i lavori non partono e giustamente i dipendenti dell'indotto soprattutto protestano. In questo momento vediamo solo parole, parole ma senza concretezza. Chiediamo il rispetto di quell'accordo che permetterebbe di avere un respiro occupazionale, di avere nuovi insediamenti e anche la green potrebbe andare secondo una crescita migliorativa. Volevo anche sottolineare il fatto che c'è un problema anche sull'aspetto upstream, la perdita del prezzo del petrolio farebbe sì che l'azienda gli investimenti li ritarderebbe e questo ci preoccupa ancora di più. Siamo qua in concomitanza a quello sciopero nazionale che abbiamo, noi lo stiamo caratterizzando su Gela perché quell'investimento di 2,2 miliardi deve essere fatto e bisogna recuperare i ritardi che si sono accumulati affinché possiamo dare tranquillità a quelli che sono i dipendenti del diretto ma soprattutto a quelli dell'indotto perché gli uni salvano gli altri. Se l'indotto è fuori vuol dire che gli investimenti e i lavori non si stanno facendo e questo ci dà perplessità su quello che già l'assetto nazionale che è l'Eni, su quello che gli investimenti totali che dovrebbe fare nel quadriennio li ha abbassati. Vuoi perché ci possa essere il discorso del barile che è a 30 dollari, però qua c'è un impegno politico che abbiamo sottoscritto al Ministero dove la raffineria è stata chiusa per dare la riconversione a questo sito e questo noi rivendichiamo. Castania, non doveva essere leggera la capitale, anzi l'esempio portante di come si poteva riavviare un'industria e invece non lo è? Partiamo proprio da questo, il 14 agosto il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha portato a una riconversione di Gela, stupendoci con un polo green che dovevamo essere contenti dello sviluppo che si stava creando su Gela, siamo in una fase in cui la riconversione è cui noi crediamo per quanto riguarda la raffineria di Gela ma stiamo vedendo che si stanno verificando delle difficoltà, è venuto a mancare cosa? È venuto a mancare proprio l'apporto dello Stato perché un progetto di riconversione come questo non è stato supportato bene dallo Stato. Ecco perché i lavoratori, in particolar modo dell'indotto, ma anche quelli del diretto a gran voce oggi protestano e riaccendono i riflettori perché automaticamente non si può abbandonare, lo Stato non si può permettere l'uso di abbandonare una città come Gela perché questo crea le condizioni di disagio, questo è quello che chiediamo.